Al di là del risultato, una buona squadra, avevamo trovato un modo di poter affrontare questa squadra, solo il solito gol fortuito su deviazione dopo cinque minuti, dieci minuti neanche, quindi si è dovuto, la situazione si è a capovolta e quindi abbiamo dovuto cambiamo modulo di gioco, purtroppo va bene, abbiamo giocato più grinta, stiamo migliorando, aspettiamo che rientrino in forma quei due o tre ragazzi che sono stati male e poi cerchiamo di ritrovare la sequenza. Dobbiamo cercare di chiudere il nostro obiettivo prima possibile, cercare di affrontare ogni partita come se fosse per la vita o per la morte, dare tutto al 100% e toglierci qualche soddisfazione, poi per arrivare magari alle ultime quattro partite contro i big della Lega, affrontare magari con un altro spirito, cercare di fare qualcosa di più. È andata bene, abbiamo giocato abbastanza bene da squadra, poi ogni volta che si vince fa sempre bene, siamo contenti, così almeno passiamo bene queste vacanze di Natale. Sinceramente sì, siamo una squadra che è nata quest'anno, naturalmente abbiamo la fortuna di poter giocare con Francesco che è il giocatore più forte che c'è, quindi lui mette a disposizione la sua qualità, mette a disposizione la sua umiltà, la sua tecnica e noi dobbiamo soltanto fare da gregari, quindi siamo contenti per questa vittoria e sicuramente ne verranno delle altre, sicuramente scenderemo in campo sempre per vincere le partite, anche se sappiamo che ogni volta che affrontiamo una squadra, proprio perché c'è Francesco nella nostra, ci mette sempre qualcosa in più. Sicuramente già da prima del fischio e all'inizio eravamo stramotivati, sapevamo già quello che bisognava fare, bisognava solo vincere e basta, infatti siamo partiti subito col piede giusto, a 2000 come vuole il mister e il risultato poi è venuto da solo. Sì, certo, noi penso che siamo consapevoli delle nostre capacità, della nostra forza, è solo che in alcuni momenti non lo dimostriamo al 100%, infatti in alcune partite abbiamo toppato, abbiamo toppato pure in maniera un po' brutta, però penso che ci serva da lezione per tornare più forti di prima, infatti penso che dopo oggi ci siamo resi conto veramente della nostra forza.